Scusatemi, devo tornare un attimo da Pregliasco perché ho lasciato in sospeso una cosa molto importante. Diciamo da molto tempo, tutti, lo dicono anche i nostri governanti, che l'unica vera soluzione per il Covid sarà il vaccino. Finché non avremo un vaccino, come ben vediamo, dovremo convivere con mille difficoltà. Questo vaccino sembrava un vaccino abbastanza a portata di mano perché questo progetto tra la nostra Italia, tra Pomezia e Oxford, portavano andando avanti, sperimentazione, il ministro Speranza si era detto molto speranzoso nell'ultima intervista. Cos'è accaduto? Perché oggi viene fuori da quello che ho capito che c'è una battuta d'arresto perché c'è uno dei volontari che si sta sottopanendo al vaccino che ha avuto una strana reazione. Ho capito bene, Pregliasco? Sì, ho capito bene, ma direi non tutto è perduto. Si tratta di una cosa assolutamente normale in ogni tipologia di studio clinico, ovvero l'attenzione spasmodica a qualsiasi cosa che accade alle persone che sono sottoposte alla sperimentazione. In questo caso ci dicono che è un'infiammazione al midollo spinale ancora da capire se correlata. Quindi davvero è la norma ed dimostra un'attenzione pur nella velocità con cui si vuole arrivare a definire e a in qualche modo mettere a disposizione questo vaccino. Cioè dimostra quanto è importante fare questi test e avere i tempi giusti, come lei mi ha sempre detto. Esattamente, assolutamente. Magari questo potrà ritardare un po', però non è detto che questi eventi davvero siano correlati. Per scherzare, ma non troppo, se cade in testa un vaso a una persona che cammina in mezzo alla strada e che è in corso di una sperimentazione, si va a valutare. Banalizzo il concetto, ma proprio per dire che ogni cosa assolutamente anche non correlata... Lei mi sta dicendo che potrebbe essere un fattore esterno che in qualche modo sta avendo un impatto in questo momento, ma che tra qualche giorno potremmo capire che non è un topo decisivo. Che non è... Esattamente, esattamente questo. Si può valutare l'entità, la rilevanza e quindi non tutto è perduto. È chiaro che l'attenzione mediatica di questa situazione lo porta in evidenza, ma è un classico in tutte le sperimentazioni in cui anche io stesso ho partecipato su altri vaccini.